Questa, c'è una storia anche questa scrivania, c'è una storia storica anche, perché la scrivania della prima donna sindacalitata. Nata e vissuta a massa, davvero? Ad Natali, che è... Ah, ecco, perché c'è la sezione, ho visto, la sezione del partito... Ad Natali, sì. Ad Natali. Ad Natali. E adesso, il prossimo 27 aprile, ricorre il 25esimo della morte, faremo una cosa in cui... è verrà... No, non vuoi dire... No, non vuoi dire... Grazie a tutti.